Eh sì, proprio così Bella regà qua Bash e bentornati sul canale Let's go Oggi signori siamo qua con una bella reaction A una specie di tutorial Su come diventare il giocatore più forte al mondo di Yu-Gi-Oh Qualche giorno fa, tra una botta e un'altra Ho aperto Youtube E ho voluto cercare qualche tutorial, qualche guida Su come migliorare il mio aspetto competitivo su Yu-Gi-Oh E ho scritto la prima cosa che mi veniva in mente Ovvero come diventare più forte su Yu-Gi-Oh E mi è uscito un video Il video che andremo a rektare oggi Ma prima di tutto iscrivetevi al canale e lasciate un like per supportarlo Fatelo ragazzi, fatelo Oggi ragazzoni Si divertivo regà Regà mi raccomando prendete popcorn e birretta Perché qui ragazzi andiamo a vedere il top del top Dei migliori giocatori di Yu-Gi-Oh incredibili Io non pensavo che si potesse giocare un mazzo così Un mazzo così di merda Però c'è chi lo gioca C'è chi lo ama C'è chi lo odia Ma di base una cosa è oggettiva È un mazzo di merda Stiamo parlando Dell'antimeta Oggi signori Andiamo a fare la reaction Ad Antoshow Cuffia la mano Ce le mettiamo Vediamo se la regia ha mezzo rec Molto bene Spero che si senta tutto Perché io Un'altra volta questo video non voglio vederlo Preferisco bruciare tutte le carte Che riguardare un'altra volta questo video Allora il video si chiama Vuoi diventare il più forte? Del mondo A Yu-Gi-Oh Gioca questo mazzo Sì cazzo Gioco questo mazzo Andiamo a vedere Eccoci qua signori Siamo qua In questa consulenza Come dice lui Porca madonna La solita consulenza Immagino qualcuno che paghi Per vedere questi video Visto che il video precedente Vi è piaciuto particolarmente Non so chi sia piaciuto Però lo vediamo Anti-Anto Chiamatela come volete Anti-Anto Partita classificata Questo mazzo è così potente Così bello Così fluido Ma Don il mazzo più forte del mondo E perché non gioca nessuno Se è così forte Perché Ci sarà un motivo Ok andiamo a vedere Sono curioso Oh Dio Quanto parli E faccio vedere sto mazzo Duellante Non sono state bannate Quindi sono veramente Buono Ottima mano Giudizio solenne Jara Rayo Oh Lop attiva fusione Occhi rossi Un occhi rossi Attenzione Si milla pezzo Si va a dare la fusione Occhi rossi Ecco che entro Dragoon signori Vediamo cosa fa contro Dragoon Il nostro Antoshow Ma che è Ma che è sto schifo Andiamo al match Però Perché ha avvocato questo Ma quello è tipo Il drago che barna Mazzi fiori all'occhiello Non sono nostri Mazzi fiori all'occhiello Ma no Ma perché non ha fatto Dragoon L'avversario Ma che ci fai Col drago che barna Quello Non fa niente Quel drago Dio ha pescato Con delle cazzo di Volvo Se vogliamo Viaggiare in modo sicuro Viaggiare in modo sicuro Insomma Noi giochiamo Il gioco dei grandi E non quello dei piccoli Il gioco dei grandi Quindi Sempre declinato Per il nostro modo Di essere E chi siamo Insomma questo mazzo È molto molto interessante Ci farà divertire tanto Ma cosa è interessante Ma cosa è interessante È un mazzo Fatto letteralmente Da carte di merda Che non fanno giocare L'oppo E dalle pot Fine Non c'è un engine Non c'è una recovery Non c'è un cazzo Sto mazzo è letteralmente Pattume Pattume Tu prendi Un pezzo Di merda E lo metti nell'olio Lo friggi E ti esce questo mazzo Fa cacare Guarda che carte di merda Il package Dice fare lo sauro fossile Raio Compulsori Ce ne può essere solo uno Immagino quanti floodgate Ci siano in questo mazzo E leggiare Ma soprattutto Ma soprattutto Perché l'oppo Ha evocato Quel drago meteoro A occhi rossi Invece che il drago Lo scopriremo Nella prossima puntata Dai continuiamo Con questo video Banna 6 Pesca 2 Vediamo cosa pesca E si va a pescare Un altro Guarda Ha pescato Un altro gizio Senni della pot Guarda Il drago Con meta nero Meteora Se viene evocato A fusione Manda il mostro Occhi rossi Da mano Decca al cimitero Se lo fai infliggere Il tuo personaggio D'anni Guarda la metade D'attacco Giangolo Il mostro Forte Perché tu Quando fai fusione Occhi rossi La prima cosa Che vai evocare È questo Non vai evocare A dragon Tu vai evocare A questo Perché c'ha 3.500 E' più forte Dei dragon C'ha 3.500 Se viene al cimitero Resta il dragone I rocchi rossi Un bel bestione Di 3.500 Un bel bestione Di 3.500 Sì È vero È un bel bestione Di 3.500 Sarebbe Un ottimo mostro Se fosse il 2006 Ma sai com'è Il 2023 Cazzo Biglietto da visita Ti va ad infliggere 1.200 Che cosa potremmo mai fare Già della prodigalità Ok Hai fatto l'extravagance La prosperity Non serve a niente Qui dentro In realtà Servirebbe Perché È buona 4.500 euro in più 4.500 euro in più Regà Cioè Se volete La prosperity 4.500 euro in più Dovete spendere La prosperity Costa tipo 30 euro Adesso Quindi con 90 euro Che fate il playset Mi sembra Al massimo Costa 40 euro Non c'ho card market sotto Ma sicuro Non costa 400 500 euro Mi sembra 400 euro 4.500 euro No no Aspetta Che sta a di Che sta a di Che sta a di Che sta a di Aspetta Aspettate Legalità Mi confondo sempre con prosperità Non serve assolutamente qui dentro A meno che non vogliate andare a spendere 4.500 euro in più Considerando che già il mazzo Costa I soldi 400 euro 4.500 euro Ma Ma cosa Ma che sta a di Ma che sta a di Il mazzo costa 400 450 euro Se volete la prosperity Altri 400 500 euro 100 euro Cioè ragazzi Questo qua Mi vende sto mazzo Con la prosperity A 950 O 850 Se vi fa lo sconto Ma che cazzo Stai a di Sto mazzo Non vale una merda Di niente Questo qua Costa meno di 50 euro Sto mazzo Sono tutte carte ristampate Vecchie Anzi Anzi Vi dirò di più Se fate arrivare A questo cazzo di video A 100 like Vi faccio il deck Criminale Vi faccio il deck Vi faccio questo deck Di merda Tanto so tutte carte Che alla fine Bene o male Ce l'hanno un po' tutte Perché so carte vecchie Vi faccio questo mazzo Sotto i 50 euro Ok Quindi fate arrivare Questo video A 100 like Anzi Superiamo i 100 like Vi porto Un'antimeta Pure meglio Sotto i 50 euro Alla faccia di questo Che ve ne chiede 400 Regà 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 No io spero che non c'è nessuno Che compra un mazzo del genere No Non puoi Non vi potete far fregare Tutti sti sordi Regà No Cioè no No Non vi potete far fregare Tutti sti sordi Regà Svegliatele Per favore Almeno voi che mi seguite Vabbè Voi che mi seguite State sempre sul pezzo Perché mi seguite Ma Se c'è qualcuno di nuovo Nel mio canale Regà Non fate cazzate Non fate queste cazzate Questo mazzo Non vale assolutamente 400 O 450 E le Prosperity Non costano 500 euro Regà Calma eh Calma Che poi mi incazzo Andiamo avanti Due trielli di carte Due trielli di carte Molto bene Benissimo Da di sottoline Le prime tre Shifter Pure shifter Nesto mazzo Dio Cristo Barriera di ghiaccio Barriera di ghiaccio La mano già in questo caso È messa benissimo Ma che è messa benissimo Fa cagare Su tutte carte di merda Evoco Pachicefano Sopro fossile C'è roba che è quello adesso Se quel povero Quello Sicuramente è un povero bot Perché Solamente se sei un bot Fai quella cosa Evocchi il drago meteoro Solo se sei un bot Se quello avesse evocato Dragoon Non poteva fare niente Con sta mano Non poteva fare niente Perché Che compulso li targetta Dragoon è Intergettabile Indistruttibile Non avrebbe fatto niente Con sta mano E ci sarebbe stato Dragoon Dio Cristo Che ogni turno menava Face off Let's go C'è Guarda Carta di merda Sta carta Può essere giocata Solamente insieme A drago blocco Altrimenti è una merda Giudizio solenne Giudizio solenne Setto tutto Passo Forte Nel caso in cui L'avversario Voglia andare a fare Una normal E ad attaccare Di plus 1200 Di plus 1200 Contro questo mazzo In cui curiosamente Sono tutti di Livello drago E molto Che cosa significa Sono tutti di livello drago Cosa significa Sono tutti di livello drago Che cosa significa Sono tutti di livello drago Cioè Nonno Scusate Ecco fatto Non devo fare altro Che passare Adesso In 2 5 Passo Poi Chi c'è Dovute Essere state attivate In sp Se siete IRL In torneo Ricordate che Le trappole Si possono Disattivare In blocco Direttamente Ma che me l'ha fatto Fale Guarda sto video Il gruppo Dei campioni Over Quindi faccio conto Che le persone Che mi guardino Siano Già Indottrinate O comunque All'interno Del nostro ecosistema Ecco perché Non vado a dare Troppe indicazioni A livello Di torneo Insomma avete Il personal trainer Quindi Avete il personal trainer No Vabbè Questa mi mancava Il personal trainer Di Yu-Gi-Oh Allora Innanzitutto Qua l'unico Personal trainer So io Tiè Guarda che bicipite 44 cm Di puro acciaio E 34 cm Di davambraccio Eh Let's go Per parlare del pisello Compulsori Adesso Se quello Avesse evocato Dragoon Non poteva Fare Compulsori E non faceva niente In amigdala Ma che sta a dire Questo Ma che è Il professore D'italiano Ma che è Arcfiend Ma perché Ma devi essere Strafatto di acidi Per evoca Drago Cometa Nero Meteora Come cazzo Si chiama Quella carta Di merda Ma ne manco Joy l'ha mai evocata Quella carta E Joy E Joy Joy era abbastanza Sempliciotto Ok Non ce lo facciamo pescare Non sono once C'è da dirlo Perché devi parla A mezzo inglese Per fare Il professionista Ma che devi fare Poretto E' certo che Si arrende Ma cosa Molto Molto Bello Ma cosa Poveretto Quel bot Se sarà A tagliare circuiti Perché non si può Tagliare bene L'avversario Si arrende Direttamente Non ho neanche Bisogno di andare Con Il sei Allora ok Benissimo Prima partita Fatta questo Era un riscaldamento Dai Per tutti Anche i vari Hater Ma Ma hater Ma hater Di che Ma perché C'è là Con questi Hater Ma come fai Averci gli hater Se dici tutte Ste minchiate Ma quello Doveva far Dragoon E basta No Drago Meteora Ma non Stiamo Nel 2006 Non è che Stanno lì No Già pronte a Giudicare No ma Redice Che mazzo Quale mazzo Può essere Poteva farti Dragoon Lo sa pure lui Avremmo sfondato Anche Dragoon No Non avresti sfondato Dragoon Perché Dragoon È indistruttibile Intergettabile Tu c'hai solo Compulsori Doi giudizi solenni E ci sarebbe Già stato Dragoon Sul terreno Che faceva Spacco Pachicefalosauro Va a 4000 Non potevi Fancazzo Ti attaccava Boom 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 E menava Dragoon È dragoon Vabbè Vediamo quest'altra partita Dai Facciamo finta di niente Questo si chiama Ant B Ant D Contro Ant B Oh Un samurai Un samurai Questo comunque È di sette giorni fa Il video Però ovviamente Registro solo Una volta a settimana Perché non ho tempo Posso rispondere A negare completamente Tutti i vari aiuti Che potrebbero Articolarsi A livello di Medi Spelltrap Ma perché parla Mezzo inglese Mezzo italiano Stata di Monsters No no Aspetta che ha detto Che potrebbero Articolarsi A livello di Medi Spelltrap Un mazzo Completamente Su base Impastata Di Monsters Perché Un mazzo Completamente Impastato Di Monsters Ma di Questo Pare manco io Sotto MD Di queste cose Di body Di creature Di body Di creature Pare che dice Tanto cose A caso È semplicemente Basandosi sui pendulum Come dire Dei effetti Bifronte Bifronte Sì Bifronte Che sono Le terre De magic Doppie Che sono Bifronti Ok Hercin Cromo Fa il barone Fare Il samurai Super Pesante Infatti Ci sono Diverse versioni C'è addirittura Quella FTK Ok Studiato Il compito In a memoria Bravo Mi stia utilizzando Proprio quelle In modo da Poter far vedere Soprattutto De base Lui che fa Mi fa vedere Sti mazzi No Sti mazzi Di merda Che imbargono Un cazzo Gioca contro I bot I bot Perdono Il dice Il mazzo Ha vinto Contro il mazzo Forte Compratelo Let's go 450 euro Mazzo Lo fai con 50 Io te lo vendo Marketing Let's go Sarebbe fiero Anche Ceri Scotti La bontà Del nostro mazzo La bontà Del nostro mazzo Vediamo Completamente Ben Assettati Come questo Assettati Ma anche Le altre build Vanno Completamente Ben Ok Ma l'avevamo chiamato Poco prima Insomma Tante negazioni Ma l'avevamo chiamato Prima Lo sapevo Io che vocavo Barone Grazie Che a questi signorini Verdi Non Alfonso Ragazzi Attenzione Lui può andare A performare Performare Tante vocazioni I livellaggi voltaici I livellaggi voltaici Ma perché Dice ste cose Ma perché Dice ste cose I livellaggi voltaici Ma che senso c'ha Perché Deve fare il Paolo Bonolis Della situazione Non sei Paolo Bonolis Non lo sarai mai Ma lo sapete cosa significa Stay over Andate su google Traduttore E scrivete Stay over E devo fare una canna Prima di vedere sto video Cosa significa Controllo Recente In clanchico Cosa significa Controllo Recente In clanchico No Risentiamolo Non è difficile Qui semplicemente Con spezze Evocazioni Piuttosto che Con tutte Le varie carte Di controllo Recente In clanchico Delle varie Evocazioni Cioè dice cose Cose randomiche Recente in clanch Ma perché Recente in clanch Che è un videogioco Che cazzo C'entra Nella frase Eh sì No perché io adesso Attivo l'effetto Di questa carta Che mi fa Uncharted 4 In modo che poi Attivo quest'altra carta Ma che cazzo Dici No vabbè È troppo divertente Simpatico Anche se lì Per l'arrivo Alla quinta Sammon Come abbiamo visto Anche in questa partita Non glielo fai Nibiru Super Sai Super Samurai Già dall'inizio Quindi anche lì Stranamente Metti il Cyber Drago E Fondi Non ci vuole tanto Un po' lo usa Forte Un po' lo usa Come stavamo dicendo prima Vedete L'avversario va a confermare Le previsioni Di Antoshow Andando a mettere Va a confermare Le previsioni Di Antoshow Adesso pure Le previsioni Del meteo Giuliacci Ci abbiamo Vediamo Attenzione La nuova carta Quella costa 2 euro Abbiamo preso Delle carte importanti Tra cui questa Che è il core Del mazzo La Morganite Costa 2 euro Ovviamente Alcuni potrebbero Volere delle informazioni Su questa carta Sul mazzo Sulla lista Sulle varie Allora Le informazioni Ve le do io Sto mazzo è una merda Non ve lo fate Perché non imparerete mai A giocare Con un mazzo del genere Perché di base Questo mazzo Non vi fa imparare A giocare E non giocate E non fate giocare Perché Non ha un engine Non ha un follow up Non ha recovery Non c'è niente Semplicemente È un mix Di carte Che non fanno giocare L'avversario Semplicemente a voi Non ve ne frega niente Di quello che ci avete contro Semplicemente Con sto mazzo Voi attivate le pot Pescate le carte di merda Che bloccano L'avversario E fate sta cosa Fai setto tre E poco questo Non puoi specialare Non puoi attivare Ti nego questo Non puoi averci due mostri Su questo tipo Poi c'è solo un mostro Di un tipo Questo no Questo no Questo no Questo no Questo no Questo il mazzo Quindi tu non impari A un cazzo Cioè tu non impari Un cazzo A giocare L'avversario Gli spacchi I coglioni I fedu coglioni Così Che comunque Poi va di side Qualcosa sicuramente Ti distrugge di side Perché appunto Se questi mazzi Non fanno mai top Un motivo c'è Perché muoiono di side Sì Con questo mazzo Puoi strappare Delle vittorie Perché se vinci il dado Il giuno Molto probabilmente Lo vinci Perché se fai setto Quattro Cioè due giudizi solenni Un flod Che è tipo Un mostro di merda Come il fossile È normale che vinci Grazie al cazzo Che vinci Però poi c'è il g2 Con la side dentro al mazzo E g3 Con la side dentro al mazzo E lì Prendi il cazzo Ovviamente Oltre Non fatevi questo mazzo Per questo motivo Non fatelo Perché appunto È un mazzo di merda È un mazzo di merda È un mazzo da nabbo Questo è il classico mazzo Che si fanno Quelle persone Che sono pigre E non vogliono imparare a giocare Quindi si fanno Sto mazzo di merda Io lo dirò sempre Lo dico da quando ho iniziato A fare video su Yugi Che l'antimetà È letteralmente Il pattume Perché se tu Devi giocare a Yu-Gi-Oh Con il mazzo Antimetà Per non far giocare Gli altri È semplicemente Perché sei nabbo E non vuoi imparare a giocare Perché De base Chi gioca Antimetà Non vuoi imparare a giocare Non vuoi stare dietro al meta Quindi non vuole imparare Ah devo fare Un entrap lì Devo stoppare Quella mossa Devo sapere Quando fa Ashblossom O queste cose del genere Quindi devi Un po' Sta dietro al gioco Imparare Questo mazzo Non c'è bisogno Di imparare Perché tu C'è solo carte Monnezza di merda Che bloccano cose E adesso Andiamo subito A spegnere Tutti i commenti Di probabilmente I fan di sto cristiano Che verranno a scrivere Eh ma Anche i mazzi forti Non ti fanno giocare Un mazzo forte Come può essere Super samurai Come vediamo Che ha messo Semplicemente Quattro negate Quindi c'ha Il barone Che è un omni negate Apolusa Che nega tre mostri Tranquillamente Non è niente di che Per arrivare lì Deve fare delle combo Come tutti i mazzi forti Perché i mazzi forti Semplicemente Hanno delle power card Non il power creep Più alto Degli altri mazzi Quindi fanno Più giocate forti Ma comunque Possono essere Interrotti Dalle hand trap Le hand trap Sono state inventate Apposta Per stoppare L'avversario Quindi Il mazzo forte Che arriva A fine board Che ti blocca Non so Ti mette le negazioni Comunque Deve arrivare A fine board E tu usi le hand trap Nel modo giusto Se impari a giocare Per fermare Le mosse Per non fare Arrivare all'avversario A fine board Così funziona il gioco Invece Se tu giochi Sto mazzo di merda A te non te ne frega niente Quello che fa l'avversario Perché tanto tu fai Ah quello c'ha quel mostro Tipo per esempio Apollo usa Che è Che è fata Quell'altro è guerriero Tu metti Ce ne può essere solo uno Lui ovviamente Te va a negare Col barone Tu volendo Magari c'è col posolenne Gli neghi Col posolenne Gli lo spacchi Quello può giocare solo Col fata E la differenza appunto È che un mazzo forte Che arriva a fine board Con le negazioni Con le interruzioni C'è deve arrivare Deve fare una strategia E tu quella strategia La vai a interrompe appunto Con le entrap O con le altre interruzioni Invece un mazzo di merda Come l'antimeta Non ha una strategia Non deve fare Una sequenza di combo E appunto Di carte Per arrivare a fine board Tu non fai niente Tu pelchi carte Che tu appoggi Le giri O levo che in attacco E non fanno fare cose Bloccano azioni Tipo appunto Rivalità L'avversario può avere Solo un tipo di mostro Ce ne può essere solo uno Non ci possono essere Due mostri dello stesso tipo Oppure Cazzo non so Tutti i flod Che te merda Tipo Gozen Giudizio solenne Che va a proteggere I flod Che te cazzate Il mazzo Non c'è in Jain Non c'è una strategia E tu semplicemente Peschi Carte Che cagano il cazzo E non fanno giocare E la differenza tra Appunto Un mazzo forte E L'antimeta E questa Che comunque Tu devi saperlo Giocare il mazzo forte Per arrivare a fine board E l'avversario Se sa giocare Te interrompe Invece qua Non devi sapere giocare Non devi sapere Che lo sta a fare l'avversario Te te frega una sega Tanto tu fai pesco 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 Setto 25 No non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi E poi G2 Pi il cazzo G3 Pi il cazzo Perché Se sti mazzi Non fanno la top Ci sarà un motivo Ora se l'avversario Ora se l'avversario Me lo va a negare Io posso scegliere La carta che voglio Con Giocare della dualità Se non lo nega Invece Abbiamo Ad avere Due belle Vediamo cosa fa Questo botto Voglio far notare Che noi abbiamo Sempre iniziato Per secondi Anche in questo caso E sulla carta Il nostro Antometta Ovviamente Questo è chiaro Oggettivo Oggettuale Nella realtà Ha preso Ash Vai Gira sta Giocare Ok l'avversario Aveva anche Ash In mano Quindi molto Molto forte Ok Sempre sto shift Sempre sto shift Che mazzo di merda Abbiamo morganit Soprattutto abbiamo Una bella protezione Con il nostro Rayo Ci comincia Andrà a mettere Rayo Rayo coperto Su Solenne Forte Non andrei a far Sprecare L'omni negate Adesso Su morganit Questa è una grandissima Carta ragazzi Che ci permette Pino Alla fine del Due La dove Li attiva adesso Morganit È forte Solamente se riesce Attivarla al prima possibile Dove attivarla adesso A costo anche Di essere negata Dove attivarla adesso Due volte Piuttosto che Di andare a distruggere direttamente Io ho spaccato compulsory Una nostra possibile Ha spaccato compulsory Se non sbaglio Ha fatto barone Spacco compulsory E lui non ha attivato compulsory Perché si è scordato Vediamo Ma in phase 1 Di andare a Distruggere direttamente Si fa effetto Spacca compulsory Una nostra possibile Spaccata Per andare a Evocare E invece Andiamo ad evocare Due volte Non se n'ha accorto Non andiamo Ovviamente Non se n'ha accorto Non ha detto niente Oh bru T'ha spaccato compulsory Ho perso anche il timing Il futuro Accetta la sfida Passa a fastweb Premiata da Ugla Come la rete Ma Stavo bene Piedesti spicci Forte Un giocatore competitivo Forte Forte Vediamo quello che va a succedere In phase 2 Peschiamo E beh buono Buono sicuramente Ma buono di che Una bella pescata Insomma Di gelare della dualità Potrebbe andare benissimo O forse no Chi lo sa Vediamo per il momento La situazione Adesso Adesso il bot Coretto Il bot Coretto E' andato a negare Morganite Adesso non ha proprio senso Negare quella carta Perché quella carta Funziona dal turno Dopo Per quello prima Aveva senso attivarla prima Perché questa funziona dopo Cioè lui dopo Pescherà Due Il fatto è che dopo Lui in teoria Non ci arriva Perché c'ha mille punti vita E lui c'ha i mostri grossi Lui un po' mette solo Un mostro coperto Attacca Ovviamente il bot E' un bot Quindi Carinello Fa il possibile E' andato a negare Quella carta Ma se fosse stato Un giocatore serio Non avrebbe negato Quella carta Avrebbe aspettato Perché quella carta Adesso in questo turno Non fa niente E' obiettivamente Abbastanza disperata E ci girerà la giara Probabilmente girerà Ebbè oddio No 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 Non è anche troppo Abbiamo carta doppia Questa è una grande carta Oddio Cristo Potremmo andare a mettere Eh c'era anche troll Nella mano E allora C'è andata abbastanza male Questa qua E diretta Ma che cosa devi fa' Ma che devi fa' Con sto mazzo di merda Che devi fa' Con sto mazzo di merda Eccola La side Non so Schifo È bello cattivo Ragazzi È molto Bello cattivo Non è fatto niente Non è fatto niente Non è fatto niente Non è fatto niente E quello Ti ha pure negato Una cosa inutile Risvegliare il drago Alla side sarà questa Immagino Risvegliare il drago Beh anche qui Non abbiamo pescato benissimo Però comunque Abbiamo risvegliato il drago Oh però frate Tu non è che nel titolo Cioè non è che tu nel titolo Mi scrivi Vuoi diventare il più forte del mondo E poi mentre giochi Piagni Dici Non ho pescato bene Andi qua E c'era pure questo E c'era pure quello Oh c'è scritto Tu vuoi diventare il più forte del mondo Cazzo sì E cazzo sì Fammi vedere questo tutorial Dai Metti sta carta coperta Evoca un mostro stupido La carta che gli fa molto male È Spector Border Perché gli impedisce Di utilizzare gli effetti Quindi adesso metto Io comunque Io comunque Non so la Konami Quando ha stampato Quella carta Che che si è fumata Oh oh Entra a pancratopo Eh risvegliare il drago Che è molto molto forte Ok Via Vediamo che succede Oh Barriera di ghiaccio Quando viene dichiarato un attacco Cambia l'attacco Il mostro a zero Annulo i sui effetti Inutile un po' Cambia la posizione Bella carta PS Il 2010 Sarebbe una bella carta Perché quando viene dichiarato Un attacco A questo punto Ti mette Sta dichiarando un attacco Barriera di ghiaccio Vado a bersagliare il suo amichetto Che tra l'altro Ha anche l'effetto negato Quindi non può neanche andarsi A inventare Il quick Con cui va direttamente A spaccare Lui Non poteva attivare l'effetto Ma non per Trappola di merda Ma perché c'è Spectre Border Non è che lui Non ha fatto Quel povero bot Che non so se è Unto D O Unto B Comunque quel bot Poretto Non è che non ha attivato l'effetto Perché tu gliel'hai negato Non ha attivato l'effetto Perché non poteva Ci sta Spectre Border Spectre Border Impedisce a tutti i due giocatori Di attivare effetti A meno che Uno di quei due giocatori Non abbia evocato Link Xyz Syncro Pendulum Tra l'altro È una carta che viene utilizzata In Battleface Che non cambia Il numero di mossi Sul terreno Quindi come vedete Adesso non è più Così confident Il mazzo dell'avversario Come prima Non che ci avesse fatto In verità Ha solo evocato Pancra top Rispetto a come Normalmente Va a giocare Ah Ha fatto il Kaiju Raga comunque Sì Non so che dirvi Io raga Non so che dirvi Io non so che dirvi Capite perché Sta a giocare Contro i bot Cioè Loppo ha fatto il Kaiju In MyFace 2 Su quel coso Cioè Capite Cosa vi sto dicendo Cioè questo Questo dovrebbe essere Un tutorial Su come diventare Il più forte del mondo E stiamo giocando Contro dei poveri bot Che non so Manco i bot De Call of Duty A livello recluter Erano così scarsi Cioè sto bot Ha evocato Pancra top È andato in battle Non poteva nemmeno Attivare l'effetto Si è schiantato E in MyFace 2 Ha fatto il Kaiju Se era un giocatore normale Avrebbe fatto Prima il Kaiju E poi avrebbe specialato Pancra top Con Pancra top Avrebbe distrutto il Kaiju Col suo effetto Al massimo Sto dicendo Così E manco la norma L'ha fatto ovviamente Mo' vediamo che succede Come il Kaiju Che comunque Si è organizzato Molto molto bene A livello di Mo' va a spaccare La carta coperta Cioè distruggere gli svegli Questa è una carta Molto molto potente Perché ci permette Di arrivare Direttamente Questo è l'extra deck Questo è l'extra deck Regà Non ci credo Dal mazzo Dall'extra deck Non ci vogliamo Con l'occasione Più ghiotta Andrà a mettere Il papice palosauro E adesso è un problema Adesso è veramente Un gran problema Perché non può più Evocare Adesso probabilmente Vince la partita Perché c'ha Il 3003 Vedete come cambia Il tutto Vedete come Prima Molto molto più sicuro Di sé Ma che sta a dire Ma che sta a dire Molto sicuro Di sé Non si sa Che ha fatto Non si sa Che ha fatto Ha fatto il cage In MyFace 2 Sopra Appunto In Spectre Border Che bloccava tutto Dio Cristo Vabbè E adesso che succede Allora Allora innanzitutto Gli aizzatori di flame Non so chi so Perché chi è Chi è che fa il flame Verso te Non lo so Questo Questo che sto facendo io Non è flame Sto oggettivamente Descrivendo Quello che sto vedendo E non è flame Non è manco hating Cioè Boh è paperissima sprint Splash Pensano che noi giochiamo Contro bot Ma sì che giochi Contro i bot Cioè Non c'è Giochi per forza Contro i bot Ma uno che fa Fusione occhi rossi E non evoca dragone E evoca il drago meteora Ma pure Deve essere per forza Un bot Chi vuoi che evoca Il drago meteora Con fusione occhi rossi Oppure questo Che te fa Prima il pancratopo Si schianta Poi il mainface 2 Fa il Kaiji Il Kaiji Il mainface Oh ferma Nel microfono Costa più di me Il Kaiji Il mainface 2 Sopra i Spectre Border Che blocca tutto il mazzo Non c'ha senso Non c'ha senso Non c'ha proprio logica Sta mossa Non c'ha logica Sta mossa Non sanno leggere le carte Per quelli tranquilli C'è la scura censoria Tra l'altro Ma anche Ai signori Che giocano i mazzi meta Cosiddetti T1 Della verità Che non esiste Nel meta Nel T1 Poi se lo continuerò Sempre a ripetere Non esiste il meta Non esiste il T1 La Konami Fa i soldi così Perché le casse Si riempiono da sole Let's go Non esiste Nel meta Nel T1 Giochiamo tutti A caso Si Molto intensi Molto di allenamento Molto workout Ma molto Workout Questo è workout Guarda 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 Questo qui è workout Guarda che ha un braccio Guarda che ha un braccio Sembra l'Everest Guarda Guarda Workout di cosa Che evochi un pachicciavaro solo fossile Non fa niente E pazzi Che cosa Quello basta Mo' perchè sta giocassi a muore super pesante Quindi non c'ho l'impermanence Bastava un'impermanence La nostra filosofia Semplicemente perchè ho visto che funziona Si ma il game Oh G3 c'è C'è sto G3 Fammi vedere il G3 dai Benissimo Adesso l'avversario andrà sicuramente ad iniziare per primo Ci sono tante tante Possibilità Di livello di side Tipo il guru Ti guarda che male Noi Andiamo con un discorso Potere dei guardiani Saluto un mio caro amico Che gioca a potere dei guardiani Senti quanto parla Attenzione Parte di balestra Sicuramente Questo è sette giorni fa il video Quindi in teoria ci dovrebbe essere Molto bene Ma che cosa significano queste frasi Gioca molto velocemente Conosce il suo mazzo Ma grazie Cioè chi è che gioca E non conosce il mazzo Cioè Boh Povero Anto B Povero Anto D Grazie per il salute Ha sparato Che è? Gli hanno sparato Che è successo? Una forza obiettiva Del mazzo Samurai super pesante Ci va a Fortificare di ancor più Esperienza Sono tutte partite da torneo Ragazzi Partite da torneo In questi video Se vieni a torneo Mio con Antimeta Pisolo che insulti Ha 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 Io che ne sto C'ho parole Ragazzi Non c'ho parole Non c'ho parole Vedere Ovviamente sono video lunghi Questi Guarda Giusto perché Stasera Buono un pochetto di birra Dai su Forza Ma quanto parli Cosa fa Loppo? Ok Se resta Intensi Mamma mia Intensi Siamo contro dei cazzo di mazzi Che sono da torneo Molto molto forti Sì ma Puoi averci pure il mazzo Tornocontro Ma se lo gioca un bot Poverino Che non sa quello che fa Che ti fa il Kaiju In MyFest 2 Dopo che si è schiantato Con Pancra Dopo che c'è due settate Poverino Che cosa fa? Cioè E dei basi in mano C'aveva E c'è un trucco Allora Il fatto è questo Che se quello fosse stato Un giocatore vero Avrebbe Prima di tutto Fatto il Kaiju Poi Avrebbe Specialato Pancratopo Poi Avrebbe fatto Eccentrucco Perché questa era la sua mano E con Eccentrucco Avrebbe spaccato Una delle due settate Se Avesse spaccato Quella specie di Come si chiama Barriera di ghiaccio Bene Se avesse spaccato Risvegliare il drago Tu avresti fatto La stessa mossa Avresti pagato Il Pachice Per lo solo fossile Lui L'avrebbe attaccato Tu avresti attivato La trappola Lui in risposta Avrebbe fatto Pancratopo Tributa di costo Spacca E poi continuava a giocare Perché c'era tre carte in mano Quando si è reso E mi pare strano Che il Super Samurai Pesante Con tre carte in mano Non fa niente Mi sembra molto strano Ecco io continuo sempre a pressare Su questo Devo ringraziare tanto I ragazzi del team Sulla selezione Che noi apportiamo Soprattutto Sui mazzi Contro cui giochiamo Molte persone Su Youtube Su internet in generale Si organizzano le partite Se le acchittano Se le acchittano Affronterai Le tenebre Oh no Gioca Antimeta Non giochi Liberaci Dall'antimeta Oh basta Con questi Piedessi spicci Piedessi spicci Anche giustamente Fanno vedere Insomma Anche per non andare in burnout Per non morire A livello di Time consuming No Vi assicuro che Ragazzi queste Diciamo attività Tra virgolette Di Di mostra Dei mazzi Di Anche semplicemente Visualizzazione Del Meta changing Insomma Veramente un macello Non potete capire I vari operatori Come stanno tutti Incazzati Anche perché Operatori In generale Un po' remunerativo A livello di Riconoscimento Quindi veramente Ecco A differenza di Quante visual vuoi fare Frate Ma se parliamo di figurine Ma quante visual vuoi fare La nostra nicchia è piccola Non è che puoi fare Centamila visualizzazioni Con le figurine Cioè Già tanto Se fai 500 visual Se arrivi a fare 2500 Sei forte Sì insomma Altre persone Guarda Due palestre Io sapete benissimo Come la penso ragazzi Per me È importante Che tu vada a vedere Il gioco come So benissimo Che ci sono molti Qui dentro Che vogliono ricominciare A giocare Stanno ricominciando A giocare Vuoi che vuoi Che vuoi ricominci a giocare Non vantate a spendere 850 euro Per sto mazzo Con le prosperi O 450 senza le prosperi Perché sono sordi buttati Sono sordi buttati A giocare in qualche modo In livello massimo A me da fastidio Mi da fastidio Quando ci stanno Queste prese per culo Perché Io sto a fare tutto Per creare delle community Un po' in giro Nella provincia E ho parlato Con un sacco di persone E la cosa Purtroppo Che Spinge le persone A non giocare Appunto È il costo Delle carte Perché La barriera d'entrata Comunque È sempre molto alta Per quello Per quello C'è il bash C'è il bash nazionale Che porta i mazzi Budget I mazzi criminali Fatti con 50 euro Quindi una giornata di lavoro Riuscite a farvi il mazzo Con quel mazzo Potete riniziare a giocare Certo Non potete vincere Il YCS del Burundi Con il mazzo da 50 euro Però comunque È un buon mazzo Per tornare a giocare Per capire Le meccaniche nuove E per non fare le figure di merda Se portate per esempio Un mazzo del genere Che potete Che l'avete pagato 400 euro Non ci credo Dai ma è tutto È tutto uno scherzo È tutto uno scherzo In realtà non esiste Questo canale Non è vero Che questo mazzo Lo vende a 450 euro No non ci credo È tutta una burla Non ci credo Spero che sia tutta una burla Vabbè rifatto il barone Vorrei giocarmela E poi affidarmela Di professionisti Che professionisti Giochi anti meta Non sei un professionista Sei un nabo Punto Fine Non è una critica È La verità oggettiva Sia i mazzi più forti Anche a livelli di avversari Ragazzi Sarebbe troppo facile Vabbè in Turea Gli rifare la full combo Gli la farà Sta cazzo De full combo Non sanno Tipo registra un botto Sia a livello Anche di Come dire Riscaldamento Del gioco Comunque questo sta 20 minuti a dire super cazzo Tutto molto molto più veloce 20 minuti a dire super cazzo È incredibile Un sacco di mostri Sono entrati Aspetta Spendulum Dai non è vero Uno dei primi pilastri È che parli il campo E che il campo Dica Tutto quello Che serve Io potrei parlare Riempirmi la bocca E Ah una cosa che non vi ho detto prima Sto mazzo bricca Sto mazzo Lo sai quanto bricca Regà Padonna Quanto bricca Sto mazzo Cioè è assurdo Si suol dire Dalle nostre parti Lo sono già Oh dai però Si mi stacca Cazzo Mi stacca Cazzo Che fa st'avversario Che fa sto oppo Cosa ha avvocato Saruggia Avvocato Saruggia Apollusa 3200 E Yu-Gi-Oh Tutti i massi possono dire la propria ragazze Ma anche oggi Soprattutto pure oggi Niente Barone Apollusa Già qui Siamo messi molto molto bene Potremmo andare A Come dire Beitare lui Vorrei utilizzare La giara dei desideri Quindi come mi vado a comportare Stesso spartito di prima Ben Qui siamo Ben Sette negazioni Ragazzi Anzi no 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 Ma che cazzo dici Sette negazioni C'hai 4 negate Da Apollusa Che sono solo 4 negate De mostro Ma tanta tu Non ce li hai gli effetti De mostri Perché giochi Tutte carte di merda E un omni negate Del poro barone Bella persi barone No Mi sono quasi A incrementare Di Insomma 4 ragazzi Più un altro omni negate Ok Tanto partecipa lo sauro In realtà Non è una borde Cioè È una merda Quella borde Il barone Apollusa Perché tu c'hai l'antimeta Che dici Attivi gli effetti De mostri È come se ci avesse Solamente Del barone Mochita Scudo Luce lunare E andarlo a Omni negare Quindi Iniziamo con Il potere dei guardiani Per il nostro Paticepa lo sauro Andiamo a vedere Se va immediatamente Ad attivare il barone Il nostro potere Adesso È andare a forzare La sua negazione Dal momento Che lui è omni E come dice la parola stessa I signori che hanno studiato Il latino Adesso stanno ridendo Cioè Da latino Per Stare omni Adesso Non può più Andarci A disattivare Effetti di mostri Lei va a spegnere Solamente Le varie attivazioni Anche già La desideria Ecco Molto 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 La persona Ci utilizza Ancora Gli ho dimostrato Droll Benissimo È come se non bastasse Mai a dire Solo io Quando metto il side Non vado mai a vedere Nulla My bad E quindi Non ce l'ha Le handtrap Due side Che vuoi Ad attaccare Il nostro amico Barone Grazie a questo Equipo Molto importante Io non ci fico Tu raga Mi fa troppo rite Sta cosa Fa troppo rite Sta cosa L'hatk Dio cristo Dio cristo Avete visto Il mazzo L'antimeta Ha battuto I samurai pesanti Vorrei vedere Tanto ha vinto Lui Vediamo che succede Più 100 È il mazzo Antimeta ragazzi È il nostro mazzo Antimeta Per tutte le persone Che se lo chiedono Un mazzo Che possiamo anche dare Adesso Vi ripeto La stessa cosa Che vi dico prima Il fatto che lui Abbia pescato L'out Perché De base Scudo Specchionare Ce l'aveva De prima mano Non ce la può aggiungere Sarebbe stato diverso Se avesse avuto Una combo Che poteva aggiungere Quello ecopaggiamento Perché per esempio Nelle prime due partite Non l'ha vista Quindi quello Mi ricollego all'inizio Che sto mazzo Appunto va a culo Con le pot Con quello che peschi Quello che peschi Fai Per questo dico Non c'ha un engine Per quello che peschi Fai Cioè quello che peschi Fai Infatti le prime due partite Non l'ha mai attivato Lo scudo I nostri mazzi di team Basta semplicemente Vedere il messaggio Pinnato in alto Qui purtroppo Sei samurai pesante Non ho quanto parla Sei samurai pesante Purtroppo Non avendo magie trappole È difficile Ribartare Le magie trappole Perché lui L'unico modo Che c'ha Evoca mostri Che fanno cose Che il nostro oppo Eh la clessidra Comincia a scorrere E non scorre Solamente per Vabbè Si arrende Vabbè si arrende Purtroppo L'avversario va anche Ai 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 Anche Eh Anche se siamo Immagino Immagino Un giocatore Che non ci capisce niente Di cui inizia a giocare adesso Che magari Non gioca da 10 anni Il feed di youtube Gli sponsorizza Sto video Questo apre Apre Vede ste cose Vede Oddio E l'avversario Si arrendono tutti Cazzo Questo è forte Gli avversari Si arrendono tutti Gli scrive Mi vendi il mazzo Si So 450 euro Se vuoi le prosperiti Sono 8,50 Va bene Va bene Tanto gli avversari Si arrendono tutti Fincopalino Compra il mazzo Però gli dice Senti Le prosperiti Non le voglio Perché costa troppo Sento solo 450 Pizze Pia il mazzo Va al local Mischia Prima mano Bricca Pia solo che schiaffi Perde Va a mettere la side Vede la side Anche l'avversario Vede la side Perde 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 Vince Perde Perde Vince Perde Perde Va a casa Baccia 450 euro Arrivato penultimo Local Pia strappa tutto Facile facile Qua Vediamo Vediamo quest'altra partita Attenzione Ecco c'è shifter Troppo Attenzione Sulla fiducia Certamente si può fare E ovviamente Attenzione Fatelo in SP Perché altrimenti Se la prima mossa Che è performata Durante l'MP1 Poi non vi va più A utilizzare La giara della prodigalità Andiamo a Beitare la sua bellissima In realtà Semplicemente Puoi fare Giara Catena 1 Catena 2 Shifter Non è che devi farlo Per forza Quello che hai detto tu Probabilmente Queste cose non le sai Perché tu sei un campione Siamo anche contro Branded Quindi questo ci fa davvero Molto Iniziamoci A Preparare Il problema Che appunto Lui c'ha La forza riflessa Che lo protegge Dalla battle È paradossale Sto mazzo Quello che vi dico Però è che lui adesso Non c'ha più carte in mano Ok Non c'ha più carte in mano Quindi Se l'avversario Semplicemente Pesca un impermanence Tira un impermanence E poi parte Perché lui adesso Non c'ha negate Non c'ha niente Perché appunto Questo mazzo Va totalmente a caso Peschi le carte Quello che peschi Fai Poi attivi La giornata di serie Band 10 Senza tutte fregate Peschi 2 Via Appaccare Bene Questo qua ci fa Branded Branded Ci sarà un motivo Se Branded Fa top 64 Top 32 Top 8 E antimetal Non fa niente Ci sarà un motivo Forse Forse ci sarà un motivo Non può fare Non lo può fare Che è pronto Non lo può fare Tanta forza Per questi signori Perché però Sono impostati male Perché comunque Il Branded Vuole andare ad evocare Tanto Vuole andare a mettere La chimera Guardiana Beer Broom Piuttosto che Gli altri Vari mostri Ovviamente Se tu c'hai Una carta Che dice Nessuno può evocare Specialmente Tutti i mazzi Perdono Non può evocare Specialmente Un dito in culo Con la sabbia I vetri Monnezza pura Ma lo va in battle Gli fa forza Diflessa Forte E' anche stato Abbastanza fortunato Nell'avere Oltre a Lush Anche A me quanto Mai danno urto A queste persone Che fanno E' stato fortunato Ad avere E' stato fortunato E' un gioco De carte Non puoi dire E' stato fortunato E' un gioco De carte Punto Fine Giochi Lentra Peppettiralle Non puoi piangere Perché t'hanno fatto Ash Non puoi piangere Basta Dai Questo va in attacco Lui fa Adesso attivo La mia forza Riclusa Sempre Tra Tra Illuminati A Se avete visto L'abbiamo preso 900 Perché questa carta Va a infliggere La metà Della somma Di attacchi Di mostri Di sud E ho capito Carinello Questo Pesca La giara Devi conoscere L'ecosistema Aspetta Aspetta Qui mi sono perso Qualcosa Che è successo Scusate Regà Me sto a dormire Quello passa Il turno Perché non può Fa niente Lui pesca La giara Perché 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 Utilizziamola Dopo Perché Stai in vantaggio C'hai un Floodgate Di merda E un Mostro Floodgate Che nessuno Popoca Specialmente Mostri Perché Dire Questa La utilizziamo Dopo Perché La devi far subito La giara Perché dopo Che cazzo Di strategia Perché La facciamo Dopo La fai adesso Peschi Ducarte Magari Peschi Giudizio Solenne Che Te può Negare Una possibile Impermanence E sei ancora Più forte No La tiriamo Dopo Giara E lo dimostra Il fatto Che da tanti Anni Ragazzi Siamo da tanti Anni Sulla Sulla breccia Con questo Se cercate Antometa Antoshow Abbiamo vinto Tornei Nel corso Delle diverse E epoche Anche Il livello Di master Due Non ha fatto La giara Incredibile Più passa Il tempo Più fa Schifo Sto mazzo O è fluido O è fluido O è fluido O è plastico O è fluido O è solido Io porco Un cardinarlo Con tantissime Ma cosa vuoi Tantissime Declist Dai Che fa Sto poro Cristiano Madonna Non può Fa niente Quello Co Branded Opening Si aggiunge Una carta Mette Un mostro Coperto Spero Spero di no Spero che sta dicendo Tutte cose burlone E pesca un altro Vedi che ha pescato Un altro Pachice per osalo Fossile Mo va attiva la giara Board Che fa dimostrare Che non stiamo dicendo Cazzate Abbiamo fatto benissimo Non utilizzare la giara De desideri Perché altrimenti Non avremmo top Peccato Il nuovo Pachice per osalo Che c'è da fare Con altro Ce l'è uno Quanti ti servono L'incastro L'incastro Quello sarà Tragedia No Gostogre Oh Gostogre Gostogre L'avversario Si fa potenziare Ma che vuol dire L'insieme Che ci fa dimostrare Che Non stiamo Assolutamente Sparando Ok Va a me Ok Benissimo L'avversario Si va a potenziare Assolutamente Ma dice cose a caso Dice letteralmente Cose a caso L'avversario Si va a potenziare Ma che vuol dire Si va a potenziare Ha attaccato Come un ministro in difesa Potremmo utilizzare La punizione dogmatica Però no Io aspetterei Nel momento in cui Egli ci va A impostare Egli Eso Un plus 1200 In modo da andare A mandare Entis Al cimitero Per andare Con una Distruzione Bifrontale Ma perché Dici queste cose Ma perché Distruzione Bifrontale Ma perché Dici tutte Ste parole Articolate Questo Lo fa solamente Per far colpo Porca misura Sono le persone Che veramente Stanno fuori dal giro Distruzione Bifrontale Cioè Come fa Divertite A giocare Un mazzo del genere Ma mi dici Come fa Divertite Come fa Divertite A giocare Un mazzo del genere Come fai Come fai Impara cose Non impari niente Rimani sempre Allo stesso punto Cioè Gli altri giocatori Vanno avanti Imparano cose Tu rimani sempre lì Ammette il mostro Che non fa Poca specialmente La trappola Che non fa fare questo La carta Che non fa fare questo Le distruzioni Bifrontali Non puoi specialare Tutte le carte So bandite Può avere solo un mostro Può avere solo mostri Di diverso tipo Può avere solo Un attributo Come fai Divertite Come cazzo Fai Divertite Non c'ha senso Giocare così Quello che dico sempre Se dovete giocare Un mazzo del genere Non giocate Cioè Cambiate gioco Perché non fa Per voi il gioco Punto Yu-Gi-Oh È il più bel gioco Di carte Perché è Super complesso E se possono Fa tante cose Perché Il gioco è difficile Perché i ruling Si sono sempre Sommati Durante il tempo Visto che non è che Ci stanno tanti formati C'è lo standard Poi ci sono quelli Altri formati E quindi nello standard Ogni volta che usciva Una master rule Sommavano cose Uscivano carte nuove Carte nuove Carte nuove Carte nuove Carte nuove E uno che è rimasto Dieci anni fa Giustamente Si deve recuperare Tutti i dieci anni Esempio Quindi È difficile Come gioco Per questo è bello Perché è difficile È bello che impari Diventi più forte Diventi più bravo Se tu giochi sto mazzo Non diventi più forte Non diventi più bravo Non impari niente E non capisci niente Fine Perché giochi Un conglomerato Adesso dico pure le parole Dico anche io Le frasi fighe Giochi un conglomerato Di carte di merda Che non fanno fare azioni All'avversario Senza una strategia Cioè Metti solo appoggi Ste carte Che non puoi fare le cose Fine Fine Poi ti trovi La side E il pinculo 2400 a bot Chiudiamo questo video E basta Perché Sono cascati i coglioni Potremmo anche aspettare Perché no Oppure Andare a Dare Il colpo di grazia Adesso E ancora Diciamo Il bio Siamo al bone for glory Adesso Utilizzare immediatamente Punizione Allora io faccio una prova Metto Velocità 1.75 C'è La può più sentire Enti Spacca quello Spacca la settata Io aspetterei Nello scoprire Il secondo Pachicefalosauro Perché quando viene flippato Va a dare una distruzione Importante per il nostro Andiamo a mettere Comunque Ce ne può essere solo uno In modo che si ceva a distruggere Questo Io siccome non mi serve Potrei andare a pescare La La signorina Cioè Avete capito che ha detto Oh Fermate No Si è bloccato Si è impallato tutto Avete capito che ha detto Ha detto Io aspetterei A flippare Il pachicefalo Perché Perché potrebbe Dare fastidio all'opo Perché lui quando si scopre Distrige tutti i mostri Avvocati specialmente Ma C'è quell'altro scoperto Non si può Avvocati specialmente Cioè Questa partita È logorroica Logorroica Io spero Spero che faccia qualcosa Questo Ma Questo povero Maia si chiama Il giocatore Forse questo è un giocatore In M2 Forse un misclick Qui Forse ha sbagliato Forse è O forse Semplicemente Aveva paura Delle carte Forse è un bot E basta E basta E quindi gioca Molto safe Non ti attacca Il pachicefalo Saurofossile Non si sa Per quale Non si sa Per quale motivo Non ha attaccato Non si sa Non si sa Non si sa Non si sa Vedete questo mazzo Anche a livello psicologico Quanto è forte A livello psicologico E ha sbagliato In questo modo Io ho topdeccato La carta che mi serviva Topdeccato Sto mazzo Fa solo quello Stai a mano vuota E peschi Sono tutti topdeck Praticamente Non andrei a mostrargli Non andrei a mostrargli Questa carta Non andrei a mostrare Niente Sarrendi Grazie a cazzo Non puoi Specialmente Ce ne può essere Solo uno Ce ne sono tre carte Coperte Pure io Mi sarei arreso In un fattore Torneo Ti devi arrendere Perché in un fattore Torneo C'è il tempo Che si scala E se tu Non c'hai l'out nel mazzo Quindi il massimo Che poteva fare questo È topdeccare Spolverino Su 31 carte Fai prima Ad arrendete E così Risparmi tempo Giochi G2 Altrimenti Che fai aspetti Che su 31 carte Giri fuori Spolverino Perché era l'unico Che poteva fare Era quella Vediamo contro Chi stiamo giocando Questa è l'ultima partita Ragazzi Questo c'ha Questo c'ha 12 Questo c'ha 12 carte Dextra E 42 carte De main Loppo Sì O comunque Partente Partente Per secondo Perché sono tutte Vittoria Forse 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 Questo ci aveva visto Direttamente Nelle altre partite Ma che vuol dire Si è crashato Carino Ha sconfitto Ha perso Ma perché Cazzo Sconfitta Vittoria Ma che sta a fa Questo Stiamo vedendo Praticamente Il bello E il bel tempo Gente che si arrende Dopo averci Comunque provato A distruggerci Ma la gente Si spara Si spara La gente Guarda che mano Niente Sempre ste carte C'ha Shifter Pachicefalo Se fosse un attacco I flood Che C'è Raga Veramente Basta 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 Chiudiamo qua Tanto questo qua Poretto ha perso E si ha perso Cambiamo scena Basta Basta Sono rotto il cazzo Sono rotto il cazzo Non si può vedere Una cosa Di genere Non è possibile Dovrebbe essere Scritto nel ruling Degli ukiyo De non giocare A questi mazzi Perché poi tanto Non fanno niente Cioè sto mazzo Raga letteralmente Caga solo il cazzo Cioè nel senso Veramente Come fai a giocare A un mazzo del genere Come cazzo fai A giocare A un mazzo del genere Cioè Avevo chi un mostro Normalmente che non fa Speciale ai mostri Setto quattro passo Poi ovviamente Tipo i cristiani Non si sa che fanno Comunque Monnezza pura Ragazzi Non fatevi gli anti meta Piuttosto Piuttosto Andate a fare i torneini Con i mazzo rog E perdete Perché perdendo Imparate a giocare E imparando a giocare Diventate più forti Ma Non fatevi Il cazzo Di mazzo di merda Anti meta Che non serve a niente Se non a farvi rimanere Allo stesso punto Per sempre Io sono Bash Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Lasciate un like Per il supporto Andatemi a seguire su Instagram Mi trovate come Bastardo7 E per oggi Diciamo che è tutto Anche perché adesso Devo andare a raccogliere I miei coglioni Che sono caduti per terra E sono ruzzolati via Quindi Detto questo Come sempre Attivate la campanella Delle notifiche E noi se beccamo Al prossimo video Bella Let's go Attivo Floatgate No Non puoi giocare Non puoi giocare Non puoi giocare